Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarci. Signore, vieni presto in nostro aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, vieni per mezzo della potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria, Tua Sposa Amatissima. Vieni, Spirito Santo, vieni per mezzo della potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria, Tua Sposa Amatissima. Vieni, Spirito Santo, vieni per mezzo della potente intercessione del cuore immacolato di Maria, tua sposa amatissima. Nel primo mistero doloroso si contempla l'agonia di Gesù nell'orto degli ulivi. Si allontanò da loro quasi un tiro di sasso e inginocchiato si pregava, «Padre, se vuoi allontana da me questo calice, tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà». Gli apparve allora un angelo del cielo a confortarlo. In preda all'angoscia pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadevano a terra. Messaggio del 25 febbraio 1999 Cari figli, anche oggi sono con voi in un modo speciale, meditando e vivendo nel mio cuore la passione di Gesù. Figlioli, aprite i vostri cuori e datemi tutto ciò che vi è in essi. Le gioie, le tristezze ed ogni dolore, anche il più piccolo, perché io possa offrirli a Gesù, affinché Egli, con il suo amore incommensurabile, bruci e trasformi le vostre tristezze nella gioia della sua resurrezione. Ecco perché adesso vi invito, figlioli, in modo particolare ad aprire i vostri cuori alla preghiera, così che attraverso essa diventiate amici di Gesù. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Amen. Gegrüßet sei tu Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc, et in ora mortis nostre. Amen. Gegrüßet sei tu Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc, et in ora mortis nostre. Amen. Gegrüßet sei tu Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc, et in ora mortis nostre. Amen. Gegrüßet sei tu Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc, et in ora mortis nostre. Amen. Gegrüßet sei tu Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc, et in ora mortis nostre. Amen. Gegrüßet sei tu Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc, et in ora mortis nostre. Amen. Gegrüßet sei tu Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc, et in ora mortis nostre. Amen. Gegrüßet sei tu Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc, et in ora mortis nostre. Amen. Gegrüßet sei tu Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc, et in ora mortis nostre. Amen. Gegrüßet sei tu Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc, et in ora mortis nostre. Amen. Ehre sei dem Vater, und dem Sohn, und dem Heiligen Geist. Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Domine Iesu, dimitte nobis debita nostra, salva nostra, vigne inferiori, perduc in celum omnes animas, preserti meas, que misericordie Tue maxime indigent. Maria, Regina Pacis, ora pro nobis. Requiem Eternam, dona eis Domine, et lux perpetua luce a teis. Requiescanti in pace. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, il nome che custodisci, regge e governa a me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Ti domando perdono per tutti coloro che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Nel secondo mistero doloroso si contempla la flagellazione di Gesù alla colonna. Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Messaggio del 7 novembre 1985 Cari figli, vi esorto all'amore verso il prossimo e soprattutto all'amore verso chi vi procura del male. Con l'amore potrete verificare le intenzioni del cuore. Pregate ed amate, cari figli. Con l'amore potrete fare anche ciò che vi sembrava impossibile. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Panem nostrum quotidianum da nobis odie. Et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentazionem, sed libera nostra malo. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Domine Iesu, dimitte nobis debita nostra, salva nos ab igne inferiori, perduc in celum omnes animas, preserti meas, que misericordie tue maxime indicent. Maria, Regina Pacis, ora pro nobis. Requiem eternam dona eis, Domine, et lux perpetua luce a teis. Requiescanti in pace. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, il lume ne custodisci, regge e conferna a me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Ti domando perdono per tutti coloro che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Nel terzo mistero doloroso si contempla la coronazione di spine. I soldati, intracciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Quindi gli venivano davanti e gli dicevano, salve re dei giudei, e gli davano schiappi. Messaggio del 29 marzo 1984 Cari figli, desidero in particolare invitarvi questa sera ad essere perseveranti nelle prove. Considerate quanto l'Onnipotente ancora oggi soffre a causa dei vostri peccati. Per questo, quando avrete delle sofferenze, offritele in sacrificio a Dio. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. 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 e ti nora mortis nostre. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje Isus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunque e ti nora mortis nostre. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje Isus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunque e ti nora mortis nostre. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje Isus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunque e ti nora mortis nostre. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje Isus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunque e ti nora mortis nostre. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje Isus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunque e ti nora mortis nostre. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje Isus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunque e ti nora mortis nostre. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje Isus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunque e ti nora mortis nostre. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Sicut erat in principio et nunque et semper et in secula seculorum. Amen. Domine Jezu, dimite nobis debita nostra, salva nostra, bigne inferiori, perduc in celum omnes animas, preserti meas, que misericordie Tue maxime indigent. Maria, Regina Pacis, ora pro nobis. Requiem eternam dona eis, Domine, et lux perpetua luce a Teis, requiescant in pace. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, il lumen custodisci, regio e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Ti domando perdono per tutti coloro che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Nel quarto mistero doloroso si contempla il viaggio al Calvario di Gesù, carico della croce. Essi presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del cranio, detto in ebraico Golgotha, dove lo crocifissero. Messaggio del 25 settembre 1996 Cari figli, oggi vi invito ad offrire le vostre croci e sofferenze per le mie intenzioni. Figlioli, io sono vostra madre e desidero aiutarvi, chiedendo per voi la grazia presso Dio. Figlioli, offrite le vostre sofferenze a Dio come un dono perché diventino un bellissimo fiore di gioia. Perciò, figlioli, pregate per capire che la sofferenza può diventare gioia e la croce la via della gioia. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Baba etu, urie binguni, jinarako oritukuze, ufarmo hako ufike, utakaro rifanyike duniani kama binguni, utupeleo mkata utuwa klasiku, utusamehe makosa etu, kama tunavyo asamehe, na sisi wario tukosea. Panem nostrum quotidianum da nobis sodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et nenos indukas intentationem, saed libera nosa malo. Amen. Salam Maria, umejawa neema, buana yunawe, umebarikiwa kuriko na wake wote, na Yesu mwona watumbu rako, amebarikiwa. Sancta Maria, Mater Dei, ora pronobis pekatoribus, nunc etinora mortis nostre. Amen. Salam Maria, umejawa neema, buana yunawe, umebarikiwa kuriko na wake wote, na Yesu mwona watumbu rako, amebarikiwa. Sancta Maria, Mater Dei, ora pronobis pekatoribus, nunc etinora mortis nostre. Amen. Salam Maria, umejawa neema, buana yunawe, umebarikiwa kuriko na wake wote, na Yesu mwona watumbu rako, amebarikiwa. Sancta Maria, Mater Dei, ora pronobis pekatoribus, nunc etinora mortis nostre. Amen. Salam Maria, umejawa neema, buana yunawe, umebarikiwa kuriko na wake wote, na Yesu mwona watumbu rako, amebarikiwa. Sancta Maria, Mater Dei, ora pronobis pekatoribus, nunc etinora mortis nostre. Amen. Salam Maria, umejawa neema, buana yunawe, umebarikiwa kuriko na wake wote, na Yesu mwona watumbu rako, amebarikiwa. Sancta Maria, Mater Dei, ora pronobis pekatoribus, nunc etinora mortis nostre. Amen. Salam Maria, umejawa neema, buana yunawe, umebarikiwa kuriko na wake wote, na Yesu mwona watumbu rako, amebarikiwa. Sancta Maria, Mater Dei, ora pronobis pekatoribus, nunc etinora mortis nostre. Amen. Salam Maria, umejawa neema, buana yunawe, umebarikiwa kuriko na wake wote, na Yesu mwona watumbu rako, amebarikiwa. Sancta Maria, Mater Dei, ora pronobis pekatoribus, nunc etinora mortis nostre. Amen. Salam Maria, umejawa neema, buana yunawe, umebarikiwa kuriko na wake wote, na Yesu mwona watumbu rako, amebarikiwa. Sancta Maria, Mater Dei, ora pronobis pekatoribus, nunc etinora mortis nostre. Amen. Salam Maria, umejawa neema, buana yunawe, umebarikiwa kuriko na wake wote, na Yesu mwona watumbu rako, amebarikiwa. Sancta Maria, Mater Dei, ora pronobis pekatoribus, nunc etinora mortis nostre. Amen. Salam Maria, umejawa neema, buana yunawe, umebarikiwa kuriko na wake wote, na Yesu mwona watumbu rako, amebarikiwa. Sancta Maria, Mater Dei, ora pronobis pekatoribus, nunc etinora mortis nostre. Amen. Atukuze, baba na mwona na roho mtakatifu. Siku terat in principio et nunc et semper, et in secula seculorum. Amen. Domine Iesu, dimitte nobis debita nostra, salva nosa, bigne inferiori, perduc in celum omne sanimas, preserti meas, que misericordie Tue maxime indigent. Maria, Regina Pacis, ora pronobis, requiem eternam dona eis, Domine, et lux perpetua luce a Teis. requiescanti in pace. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, il nome che custodisci, regge e governa a me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Ti domando perdono per tutti coloro che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Nel quinto mistero doloroso si contempla la crocifissione e morte di Gesù. Gesù, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre, Donna, ecco il tuo figlio. Poi disse al discepolo, ecco la tua madre. Gesù disse tutto è compiuto e chi nato il capo spirò. Messaggio del 25 marzo 2004 Cari figli, anche oggi vi invito ad aprirvi alla preghiera. In modo particolare adesso, in questo tempo di grazia, aprite i vostri cuori, figlioli, ed esprimete il vostro amore al crocifisso. Solo così scoprirete la pace e la preghiera. Comincerà a scorrere dal vostro cuore nel mondo. Siate d'esempio figlioli e un incentivo per il bene. Io vi sono vicina e vi amo tutti. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga e il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Panem nostro quotidianum da nobis odie et dimitte nobis debita nostra sicut et nos dimittimus debitoribus nostris et ne nos inducas in tentationem sed libera nostra malo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus nunc et in ora mortis nostre. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus nunc et in ora mortis nostre. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus nunc et in ora mortis nostre. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus nunc et in ora mortis nostre. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus nunc et in ora mortis nostre. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus nunc et in ora mortis nostre. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus nunc et in ora mortis nostre. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in secula seculorum. Amen. Domine Iesu, dimitte nobis debita nostra, salva nos abbigne inferiori, perduc in celum omnes animas, preserti meas, que misericordie Tue maxime indigent. Maria, Regina Pacis, ora pro nobis, requiem eternam dona eis domine et lux perpetua luce a teis, requiescant in pace. Amen. Angelo di Dio, che se il mio custode il lume le custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Ti domando perdono per tutti coloro che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre e per la Chiesa. Padre nostro, che sei nel cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come un cielo così in terra, dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo i vostri debitori, non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetto fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno Gesù, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Eterno riposo, donna loro Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposano in pace. Amen. L'Eterno riposo, donna loro Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposano in pace. Amen. L'Eterno riposo, donna loro Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposano in pace. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, il lume ne custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. 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 Amen.